Le vuole le mie mutandine? Quanto valgono le mie mutandine? Tenta euro se sono usate Cinque euro? Dove hai messo la mamma? Non mi ha risposto Perché tu non hai visto il meme quindi non capisci? Mi spiace per te, sfigged Sì, tu non preoccuparti, io so montare i video Tu non sai neanche come funziona il mondo di YouTube Continua a metterti le lenti Ragazzi siamo tornati in Grecia In un'isola sperduta Questa volta siamo a Corfu E lo vedete già come sono vestito? Questo è l'outfit per fare lo scooter vlog ragazzi Prima di presentarvi il mezzo Vi faccio vedere l'outfit perfetto Quando dovete andare in scooter Occhiale, cappellino Con le orecchie che vedi un po' sventola Perché poi quando ti metti il casco Ma che la cosa più importante Ah lo so io Futspring Codice faraone Extra 15% di sconto sul sito Futspring L'Apple Watch della Bea Rigorosamente della Bea Perché se no con questi scooter non vi orientate un cavolo Se non avete l'Apple Watch Chiedetevi di prestarlo alla Bea Vi lascio il link in descrizione Adesso facciamo Indovina da quanti giorni siamo qua Sulla base della mia a vacanzare una Zero Oh mio Dio mi dispiace Ti dispiace? L'anno scorso abbiamo fatto lo scooter vlog Chiaramente rigorosamente in infradito Ma quest'anno Siccome dobbiamo spingere i limiti dello scooter ancora oltre Abbiamo preso Frustyre Raga ho trovato le scarpette perfette da mare Avete presente quando andate al Decathlon e comprate quelle scarpette bruttissime Tipo queste? Al Decathlon chiaramente tutti quando vedete le scarpette da scoglio comprate questo schifo Che avevo anch'io Un uccellino ha scoperto che alla Decathlon vendono anche le scarpe da vela Sono nettamente più belle e più comode di quello schifo di scarpette Ragazzi siamo pronti Andremo esattamente qua 35 minuti in auto Sapete perché andiamo proprio in questa spiaggia ragazzi? Perché non è segnata da nessuna parte Però si vedeva dalle mappe dell'iPhone I guantini del Toto ragazzi Che sono disponibili tre versioni Ho detto magari in motorino Boh sai potrebbero essere fighi utili Ma ragazzi fa troppo caldo quindi li lascerò proprio qua Vedi come si fanno gli ADV Tanto sono miei Nessuno mi può criticare Nessuno mi può cazziare per questo ADV Vabbè eccolo Sim Symphony 200 ST Praticamente è lo stesso identico dell'anno scorso Raga è più nuovo di quello dell'anno scorso però Guarda come lo guarda Attenti Gli sgaso addosso lea Buco Benvenuti a Corfu Questo è lo scooter vlog del Toto e della Bea Dobbiamo fare la prova dello 0-100 per fargli vedere quanto va forte Via Slitta sulla terra Tutto 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 98 99 Bastardi Mi hanno fatto mollare il gas Non siamo arrivati neanche a 100 Dovamo fare il test 0-100 Non siamo neanche arrivati a 100 Un po' di buchi Ah che bello Buongiorno Buongiorno Hello motherfuckers Anfami o lasciate il like eh E qua nessuno Lasciamo un like Sinistra Qua la zona sembra già più local Qua è proprio borgo classico Ligure E qua abbiamo sbagliato Buongiorno a tutti Non ci guardavano male No no C'era tipo tutta la piazza che ti guardava Era tipo l'evento del giorno Anche se mi sembra strano eh Bea Le spiagge di solito non sono in alto Sono in basso 60 metri a destra Oh va qui Adesso si che è la Grecia che ci piace a noi Bea In tutto ciò non siamo ancora scesi Siamo solo saliti Sanno anche una discesa no? Un altro bivio Oh shit Beatrice non devi sbilanciare Oh Bea Ma si è andato pianissimo Bea La Bea finalmente ha parlato da quando siamo partiti Finalmente ha emesso un suono Oh vedi Qua sono le strade che ci piacciono nella Grecia Bea Oh attenzione No Se freni qua sei morto Bea Qua è qui l'Abeston insegna Bea Bisogna scegliere la linea Bea Centrale Proviamo centrale 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 Muoviti Devi essere morbida sul motorino Bea Destra a sinistra lo fai navigare Pensa non stai neanche guidando te Vuoi raggiungere spiagge perfette Ma io vado anche a piedi Oh va qui che bei sassi Ma vedi come va via bene Attenzione Eccoci Qua è già più simpatica la situa Io scendo No no ma scendi Stai su Stai su Stai su Aspetta Aspetta Stai tranquilla Stai tranquilla Stai tranquilla Stai tranquilla No no qua scendo Scendo Oh asfalto asfalto Bea C'è asfalto In fondo asfalto No Tu stai su morbida Qua si rischia di grattare Aspetta No no scendo Non scendo Aspetta stai su Stai su Qua passaggino tecnico ragazzi Fa molto tecnico Oh shit Ma bisogna mollare Molla giù Molla giù il freno Che così almeno va via pulito Guarda qua Ah però Eh beh 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 Vi devo dire Ti devo dire Ehm Ragazzi non è proprio la strada bianca Cioè qua è impegnativa Anche con un enduro Questa strada qui Beh però siamo quasi arrivati Bea Non si può non arrivare in fondo Beh arrivo fino a quella curva là Provo a arrivare Lo posteggerò Two seconds later Bea Scusi ma Non pagare niente Pago io Uno che è andato alla Boston ragazzi No non può Non mi avrete Non mi toglieranno la soddisfazione Questi sassi Di arrivare alla spiaggia Col mio cazzo di Sim Symphony Bea Siamo in piano Siamo in piano Ma sento il rumore del mare io In effetti Ho dimenticato di dirlo Questa È la storia di come sono diventato Il più grande degli eroi Cioè ammira Questa bellezza Dove ti ha portato oggi Non è una pubblicità di Sim Symphony Ma pazzesco Dove ti porto a Sim Symphony Un tafano gigante La faccia di una Beatrice sconvolta Abbiamo di schiacciato da qui Alla patto cazzo Fredda di brutto ragazzi Raga è stato breve ma intenso Quel signore lì gentilissimo Col costume rosso Ci ha anche chiesto Ma voi siete venuti in motorino? Mi faccio bro I'm a pro rider Freeride Gli ho detto Basta prendere tutto con Freeride Freeride Vai Ah qui c'è il pezzo Nazi Bea Scendo Scendo Ok scenda pure Raga qua Solo i veri induristi vanno su Solo Billy Bolt C'è c'è E' andato E' andato Nel pezzo più difficile E' andato E va su E va su E va su E' suo E' suo E' suo Prova speciale 1 fatta Bea Di lì vuoi andare A vedere La Bea mi ha detto di andare di qua Qua non credo che riesco ad andare Bea col motorino Io Lo piazzo qui? C'è si può E si lamenta Che io Lo portano i punti strani Cioè Questa prende va Non si sa dove Ma va Cosa? Non puoi farla Che va su Ma non so quanto va su Bea Ah guarda Qui si apre Ti voglio vedere a scendere poi Te la Bea Tiene Tenere tiene Vieni vieni E' una mega scogliera Bea Aiuto Mi sembra di essere a zante Bea Le rocce così non mi ispirano Mi sembra che devono cadere Da un momento all'altro Giga va qui che roba Beh per una volta hai dato Te un'idea Avventurosa Malsana E adesso qui Bea Ti voglio proprio vedere Bea Su guarda dove hai messo il piede A metà tra una roccia E un'altra roccia No Fai un passo avanti No Ad ecco Non il piede sulla roccia Chiaramente Beatrice Così Bene possiamo ripartire Insaputa De l'avevo messo anche questa GoPro qua Ok questo è il pezzo Nazi raga Che stecca Vai vai E prendi Bastardo Ma cosa hanno pensato i tipi Ok questo è il punto Che possiamo salire Ah ti diverti adesso Rischiello di chiusura Anteriore Livea Questo è il video per la copertina Mi cade Una spaventata devi essere Non felice Sono spaventata Tipo Ok qua Questo è Hard Enduro Estremo Può essere Hard Enduro Estremo Non è finito Bea Allora Bea cosa mi dici Di questa avventura Ma Bea Siamo neanche caduti In copertina eravamo caduti E qui non siamo neanche caduti Era ora Ragazzi prima non siamo riusciti A raggiungere i 100 all'ora Ma adesso siamo un po' in discesa La Bea pesa di meno adesso Perché l'ho fatta sudare un po' Giù tutto 39 102 104 108 109 110 109 Mossa culo Non so più Buon record La Bea 110 Madonna se l'abbiamo sturato Supermercato Peso veloce fatta Un po' di peso indietro sul motorino Per impennare meglio Bea Per chiudere questo video Ragazzi non poteva mancare Una prova di impennata Ora Questa strada libera Vedi Qua c'è anche una leggera salita La zavorra dentro qua ce l'abbiamo Va qui come via in su Riproviamo Aspetta Proviamo Allora accelero In salita potrebbe anche venire su In discesa Mi sa col cavolo Secondo me se do freno Accelero e poi mollo il freno E tiro su Va qui come via in su così Ah mi siedo anche più indietro Targa grattata Guarda è lui È come il codino di Ivan Giussani Secondo me in due si impenna benissimo comunque Dai proviamo Una volta Non viene e basta Va bene Va bene Guarda come viene su bene in due No Andiamo a casa Bene ragazzi Saluta Bea E adesso ci facciamo un bagnetto in piscina Prima che vi rivediate un altro video Uno scooter vlog Dovete aspettare un altro viaggio Sperando che la Bea dopo questo video non mi lasci Ciao a tutti